Prima Luce Lab Siamo a Prima Luce Lab mettiamo molto tempo e esploramento per capire veramente cosa voi, come astronomer, bisogna di un computer in campo. E' per questo che i nostri designatori integrano nel nuovo EGLE un computer potente Windows per farvi usare il software e controllare i dispositivi che ti piace. E' già arrivato! Prima Luce Lab, abbiamo ingegneri, includendo nel nuovo EGLE un sistema di distribuzione di potenza per farvi distribuire 12V a camera, monti e accessori. E' già arrivato con questo! Il nuovo EGLE integra un sistema di monitorazione di potenza quindi puoi controllare quant'è potenza di potenza ai vostri dispositivi e quant'è potenza di potenza che hai. E' già arrivato con questo! La nostra squadra include in il nuovo EGLE molti USB porti quindi puoi collegare tutti i vostri dispositivi come camera, mount, focuser, rotator, flat field generator! E' già arrivato con questo! Il nuovo EGLE include wireless o wide connectivity quindi puoi controllare con il vostro preferito smartphone, tablet, laptop o desktop computer. E' già arrivato con questo! E' già arrivato con questo! E' già arrivato con il sensor e ha il sensor di luminosità per mesurare la scuola scuola proprio nell'area che è avvenuto dal tuo telescopio. E' già arrivato con questo! I nostri ingegneri include il modulo di GPS per collegare con il GPS in orbitale rendendo il mosto preciso il data di tempo e location che è disponibile a voi! E' già arrivato con questo! 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 I nostri sviluppatori creano un software di manager eagle che ti permettono di controllare ogni cosa che l'eagle si tratta come il controllo di controllo remote dei port! E' già arrivato con questo! E' già arrivato con questo! E' già arrivato con questo! E' già arrivato con questo e' già arrivato con questo! Per farci facilmente adicolare l'eagle per ogni telescopio che ti piace quindi puoi ammettere questo spazio ed è già arrivato con questo! E' già arrivato con questo! ma il nuovo Eagle ha ancora più! Welcome to Eagle 5! Il nuovo Eagle 5 ha ancora più potere e feature per creare il computer più avanzato per telescopi e astrofotografia. Il nuovo Eagle 5 è disponibile in diverse configurazioni con anche più potenti processori, e più RAM e SSD, quindi puoi scoprire il miglior computatore di Eagle 5 per risolvere i vostri necessari. E se l'Eagle integrava un computer Windows insieme con l'interfaccia Eagle Manager X che mostre ogni cosa che l'Eagle è gestita e il nostro software Play per controllare facilmente i nostri dispositivi e iniziare il tuo avvento in astrofotografia, puoi installare tutti i software Windows per l'astronomia come Nina, Secret Generator Pro, Voyager, The Sky X, MaxiDL, SharpCup, PHD Guiding e molti più! Ora SSD e RAM hanno specifiche gradi industriali per proporzionare la migliore rilevabilità anche in molti tempi. e il nuovo Eagle 5 ha 10 porti USB, anche Type-C, quindi puoi collegare ancora più dispositivi che hai sul tuo telescopio. Ora il Eagle 5 viene con connessione di Wifi 6 wireless connessione di Wifi 6 che aiutano un'avventura più alta di signal di massimo, con meno interferenze radio. Quindi i specchi computer di Eagle 5 hanno migliorato molto, ma non parliamo lì! In realtà il nuovo Eagle 5 ha anche un nuovo sensore di inclinometro che mesura l'inclinazione del tuo telescopio. Questo è fantastico quando vuoi double-check la posizione del telescopio o se necessitano aiutare per impostare la latitudine del tuo montaggio equatoriale quando non avete visto sul nord o sul nord. Il computer Eagle 5 aggiunge anche un nuovo dettore che detterebbe il movimento non vuoto o non vuoto del tuo telescopio causato da vinti, flessure o cable snags. Grazie a i nuovi sensori il Eagle 5 unlocca nuove feature del nostro software che ora può controllare se il tuo montaggio è corretto basato sulla tua latitudine o ripetere la foto se il sensore del motore detterebbe un movimento non vuoto. E tutti i dati dai sensori e sensori come GPS, port control, duck mode, etc. sono disponibili per sviluppatori di terza parte che vorrebbero creare cose specifici in loro applicazioni del mondo. Il nuovo Eagle 5 ti presenta ancora con ancora più potere e il sistema di controllo più avanzato del telescopio è molto più che un computer. è molto più è molto più è molto più Grazie per la visione!